e buonasera a tutti potere pelato sono tornato evviva ciao a tutti come state degli idee degli dei ciao plunderstorm non capisco degli idee ok bravo dario compra le cover marvel che non sono cover sono stampine qualcuno ha postato una foto da qualche parte so che questa cosa ti aiuta tantissimo ma qualcuno ha postato delle foto da qualche parte che vuol dire che poteva essere o il canale dei sub o i canali del non sub uno dei due e comunque come state come avete passato il ferragosto questa festività che io adoro e che da sempre festeggio con una gioia che voi non potete nemmeno immaginare ancora non ho capito cosa si fa a ferragosto ma un giorno lo scoprirò ciao ultimate matt come stai comunque penso di avere un nuovo disagio perché ve lo faccio vedere sempre strano sapete che la vita è strana la vita è strana stiamo finendo di mangiare il pranzo di ferragosto voi del sud voi del sud comunque dicevo ricevo commenti bizzarri se carica youtube non carica più manco youtube mi vuole più bene youtube carica cosa stai facendo mi è morta la connessione te lo dico no non è morta la connessione è solo youtube che è strano e comunque che bello pelati serali sì ma perché fa troppo caldo e la mia ricondizionata funziona di merda e non voglio richiamare le persone quindi boh ora io non so perché la gente è strana ma come è passato il ferragosto a casa oggi ho fatto questo messaggio il primo messaggio era mi si vede poco aspettate questo è l'account con zero iscritti ha 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 traduzione dell'emotico la mia risposta è stata e la sua risposta è stata oddio il mio idolo ha risposto lo sono confuso comunque ciao sublox blox e ciao anche giuseppe car benvenuti bentornati a questa live serale dedicata agli unboxing oh gli unboxing comunque non ce la faccio più più che altro non ce la faccio più perché il termometro continuo a dire che nei prossimi giorni saranno terribili e io non so se trasferirmi in camera ma vediamo sto pensando dai miei zii 18 28 cazzo 28 in montagna è tanto è 18 di minima in montagna adesso è tanto c'è questo 33 di media è un po' scazzante devo dire anche perché non dà segni di diminuzione nelle prossime settimane quindi ma vabbè sono un po' preoccupato e comunque per il resto non ho fatto niente sapete che boh poi io il ferragosto non l'ho mai cioè io non l'ho mai festeggiato il ferragosto ma neanche in famiglia ieri ho letto per prima volta il primo recalire dello zodiaco ma quello classico grande hai fatto bene e grandissimo non lo so io oddio è calata una sub ah è calata una sub boh ribadisco io il ferragosto da me non si è mai festeggiato ma neanche in famiglia cioè noi boh io non ricordo cose speciali cioè anche perché il 15 di agosto eravamo al mare in genere eri al mare cosa facevi andavi al mare quindi boh no ma l'aria condizionata in camera funziona meglio è di qua che non funziona perché c'ho uno dei motori che ha sputtanato credo dovrei farlo mettere a posto ma è agosto tra un po' la passeggiamo passiamo al dolce panettone gelato io ho mai capito cosa si festeggia ma nemmeno io ma non si cioè non si festeggiava proprio cioè non mi pare che si facesse niente di particolare a ferragosto poi magari mi ricordo male può essere però poi ammetto che noi abbiamo smesso di andare al mare presto perché i miei hanno divorziato e quindi è stato un po' di maretta familiare una volta mio padre mi portò al mare io non volevo andare al mare nel senso che avevamo la casa in campagna cioè avevamo la casa a 20-30 km dal mare poi normalmente quello che si faceva quando si era una famiglia normale era andare al mare prendevi la macchina e andavi a Lignano e io non c'evovo voglia al terzo giorno in cui non sono andato al mare mi ha preso mi ha ricaricato su un treno e mi ha rimandato a casa con mia grande gioia tra l'altro perché non c'evovo voglia è una cosa tipo pagana poi diventata festa come tutto ti piace Moon Knight? non capisco la domanda intendi il personaggio? no un padre affettuoso no no è particolare non andavo al mare d'altronde non c'eravano tutti i torti io ero anche un po' rompicazzo però mi rispedì a casa non so se mia mamma doveva mi credo che mia madre dovesse anche fare qualcosa e quindi mi si ritrovò sul gruppone e niente non fece più niente però non dovevo essere piccolissimo in realtà ricordo che all'andata del treno mi spedì in treno mia madre leggevo il signore degli anelli no non era pelato mio papà leggevo il signore degli anelli e ricordo che si fermò il treno visto quanti ricordi però non ho idea di che periodo fosse sinceramente cioè non ne ho la minima idea avrei potuto boh non so nemmeno che scuola facevo proprio zero ricordi di che anno fosse però boh misteri cioè nel senso avrei potuto avere 4 però non doveva essere piccolissimo perché poi ovviamente è l'ultimo anno in cui ho deciso di tenermi in vacanza poi a un certo punto ho smesso ho detto no mamma io sto a casa tu vai pure in montagna io sto a casa a Milano stavo tanto bene a casa mi facevo i cazzi miei non avevo l'aria condizionata però ai tempi c'eri abituato ad avere caldo e quindi avevi caldo la Xavier School eh quindi prima ancora andavo in montagna Gideon Falls carino Gideon Falls e a me il mare sta sui coglioni onestamente ma anche a me Mart io in realtà mi divertivo al mare quando ero piccolino e ti buttavi in acqua stavi lì come un cretino oggi no ma sì Teo guarda Milano d'agosto tanti di quei festini una roba proprio ma anche lì non ti saprei dire che età avevo perché in realtà cioè credo di averlo fatto sempre a un certo punto per cui non so da che età ho iniziato a starne da solo a Milano quando mi sono rotto le palle di andare in montagna fondamentalmente e boh quindi probabilmente non lo so non ho idea di che da che hanno per cui sto pensando sto cercando di astrarmi nel passare è difficile però sapete quando si diventa vecchi non si ricorda più niente asfufu vai a cagare non ho ancora detto che ho sonno al massimo ho detto che ho caldo quello è vero però faceva anche un caldo diverso ma secondo me no sinceramente questa qua è un po' è un po' un'idea errata quella che faceva un caldo diverso è solo che non avevi l'aria condizionata mai e quindi ti abituavi raga il riscaldamento cioè il riscaldamento globale non porta più caldo netto si parla di uno o due gradi di media non è che a Milano non faceva mai trenta gradi anzi lo faceva e come solo che ti abituavi perché perché stavi sempre a trenta gradi cioè tu stavi a trenta gradi di giorno e stavi a ventisei venticinque quando c'era di sera e ti abitui cioè ti abitui perché il tuo fisico si abitui a quella temperatura lì oggi noi stiamo con temperature variabili tutto il tempo e non ci abituiamo più tu vai in metropolitana ci sono otto gradi nel vagone poi esce ce ne sono 45 e poi è ovvio che sei tutto sfasato se no la gente tipo in Africa non dorme nella giungla equatoriale non dorme perché ci sono le temperature che ci sono qua col 300% di umidità non dorme mai siamo no siamo semplicemente il concetto è che l'aria condizionata non ti aiuta ad abituarti alla temperatura esterna infatti mio padre viveva con l'aria condizionata a 18 gradi in macchina e lui moriva sempre di caldo effettivamente io entravo nella macchina di mio papà e mi veniva freddo lui stava con l'aria condizionata a 18 gradi fuori 30 dentro 18 minimo il cagotto però vabbè questo è successo nel tuo passato che ti ha fatto odiare le persone ma io non odio le persone cioè finché sono lì le guardo da lontano sono molto carine l'importante è che non mi parlino comunque a sfufo effettivamente un mese senza fare live sarebbe una gran ficata comunque ho fatto anche un video oggi l'ho montato e basta perché l'era già registrato però è uscito il video su Anteprima se non avete visto la live di Anteprima guardatevi il video di Anteprima che è la stessa cosa ma cioè in tipo invece di durare due ore e mezza ne dura una 58 credo non mi ricordo quanti minuti è venuto tipo 58 minuti però c'era un sacco di robe però non è funzionale te penso che l'ho già detto il mese scorso ma lo dico anche questo mese mi sa che lo faccio dire faccio prima a farlo il video cioè ci piego davvero meno se tanto devo editarlo tanto vale che lo faccio boh quando finisci la live ma steve in realtà volevo farla lunedì venerdì scorso poi è uscito Anteprima Lorde World magari domani o dopodomani vediamo ripetisco volevo farla venerdì scorso ma poi Anteprima no ma il concetto è che ci impiego uguale cioè se devo fare il video o editare la live mi sa che ci impiego lo stesso tempo a sto punto faccio il video più o meno ma oddio magari non lo so effettivamente è venuto un'ora di live vorrebbe dire registrare un'ora un'ora e mezza tomorrow e poi rieditare non lo so probabilmente vale la pena farla così però è sempre una rotola di palle comunque non è una cosa veloce ecco effettivamente sì più o meno buonsoir buonsoir come ça va ça va bien ça va comunque pensavo hai si fatto un bel colazione a fumetti no invece no ma tornano prima o poi nel futuro potete pelato comunque comunque che ora è il 21 e 1 chiacchieriamo ancora un po' ditemi le vostre aspirazioni avete fatto qualcosa avete fatto cose belle tipo giocato ai videogiochi io ho installato Baldur's Gate 3 giocato a Baldur's Gate 3 e disinstallato Baldur's Gate 3 perché sennò facevo solo quello in più sul mio pc di 15 anni fa stranamente non funziona molto bene ce l'hai Scott Pilgrim? non tutto ho mangiato il sushi a ferragosto grande marino ho letto il 4 di Dragon Ball Full Color anch'io l'altro giorno no non era il 4 era l'1 di coso no 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 alle Pozzo non vado a cercare tu sei fuori di cervello se pensi che io alzi il culo da questa sedia questa sera ma proprio per me è meglio editare tanto siamo lì l'unico problema è togliere le critiche a tutte le case editrici di Azfufu no no ma voi ve lo scordate il fatto che io mi alzi e vada a cercare dei fumetti ieri sono andato in montagna oggi è iniziato Omnibus Batman 2 Capullo Snyder grande potevi portarlo in montagna così ti allenavi se mi doni 50 euro cioè mi doni 50 euro io vado a prendere il fumetto comunque se no mi ho scesi di altre tre sub due sub che tristezza no no io volevo giocare con te l'esperienza di gioco col VIP e ma mazza sul mio computer ci paga tipo due minuti a caricare quando salvo anche salvare ci impiega tipo un minuto fa un po' fatica ma il problema non è quello il problema è che mio dio mi occupa troppo tempo e poi diciamolo è troppo difficile cioè è veramente una palla se non sei se non sei se non conosci Dungeons & Dragons mi pialla qualsiasi cosa no sono solo i primi cinque numeri sono boh quanti numeri sono non lo vedo ma sono tanti no ma io vorrei finirlo vorrei giocarlo Epic Pack tutto prima o poi lo faccio il problema è che sul mio pc fa veramente fatica avrei dovuto a rivenderlo ma vabbè ma vorrei farlo ad fufu sinceramente mi piacerebbe riuscire a farlo solo che come vedi è sempre un po' un casino però no 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 ma lo so e me l'aspettavo maz però minchia è veramente peso cioè non so se è una buona idea fare il gioco così basato su Dungeons & Dragons così tanto cioè nel senso in una campagna di Dungeons & Dragons non è che tu continui a combattere di continuo di continuo di continuo contro masse di nemici su masse su masse su masse e qui si invece quindi è un po' peso però non è brutto è figo però entri in un buco un ragno gigante ti attacca insieme ai suoi dodici alti ragni più piccoli e tu dici ok sparo una palla di fuoco mancato eh forse siamo sì o sì cioè i miei personaggi crepano che crepano no quella in realtà mi piace veramente tanto la cosa dei dadi a schermo mi piace veramente un sacco devo essere sincero ma non è quello il problema il problema sono immisse negli attacchi cioè il problema è il combattimento è il combattimento che andava secondo me fatto un attimino meno sì picpac ma uno dei tuoi personaggi è morto prova a restarlo oh no non puoi perché sei morto anche tu prova a restarlo no è morto anche l'altro e vabbè allora ma sì non è male è carino avevo ragione alle pozzo l'hanno scritto da qualche parte quei amici dove l'hanno scritto alle pozzo cioè c'è veramente qualcuno di panini che ha risposto veramente cioè non sono tutti in vacanza vabbè giusto che schifo raga ma perché le case ci sono ancora su facebook seriamente facebook io mi chiedo cosa ci fa la gente ancora su facebook ma seriamente ma poi porca puttana ma gli zoomer questa marea di zoomer non dovrebbero essersi giusto invece sono tutti sui gruppi di bang su facebook no io ho fatto un paladino maz perché mi piaceva il paladino e volevo farlo stronzo e a un certo punto ho rotto il mio giuramento solo che poi sono morto e quindi ho dovuto ricaricare perché mi sono infilato in una scaterva di casini ho ricaricato ho fatto qualcosa non so cosa ho fatto e ho di nuovo rotto il mio giuramento ma la seconda volta non ho idea di cosa ho fatto però sono contento perché volevo essere un cavaliere apostata e ora sono un simpatico cavaliere apostata dragonoid e stronzo le prendo che le prendo però è bello mi piace un drago nero dragonoide nero paladino apostata molto figo cavaliere nero apostata ci sta sia gente esterna che fa c'me delle risposte cos'è c'me no vabbè allora punto 1 non fate mai domande a panì a me fa morire la gente kingfox75 non so se hai scritto qualcosa di intelligente ma se era un link te l'ha bannato per cui se scrivilo senza punti poi magari sei creato 1 novembre 2022 probabilmente non sei un bot non lo so riscrivi di che gioco cioè non puoi scrivere link quindi te lo cancella quindi che gioco parlate di Baldur's Gate 3 community manager ok ok no infatti ma non fate mai domande tecniche sui social panini è ridicolo gente che chiede cose serie nel senso se tu chiedi al social manager panini tipo uscirà la cosa x che è già stata annunciata lui immagino abbia un minimo di lista e può dirti si è già uscita se l'ha pubblicato sui social se gli fate domande tecniche ma non ne sanno un cazzo ma è ovvio che non ne sanno un cazzo perché perché panini non è una piccola casa editrice non è star comics non è jpop che sono comunque piccole quello che si occupa dei social di salda press se tu gli fai una domanda e lui ti sa rispondere può risponderti ti risponde perché le sa le cose quello di panini è un tizio pagato per gestire i social di panini e quindi non sanno un cazzo è la differenza fra parlare con una piccola azienda a gestione comunque personale e una multinazionale come panini poi non dipende c'è tanti se ne occupano però non è un po' più complicato di così ecco e boh sì no vabbè sì ovvio meta che schifo meta è che instagram è carino ancora per ora facebook io non ce la posso fare è forse peggio di tiktok è l'opposto di tiktok fanno cacare allo stesso modo viva tiktok spero di avere presto la possibilità di fare live su tiktok per quanto riguarda facebook personalmente non lo uso però per i gruppi è più comodo per la presistenza dei post rispetto a un discord o a un gruppo telegram hai ragione i gruppi e sarà che io non ho bisogno non ho questo interesse a parlare con gli altri esseri umani ma non è una fogna instagram non è vero no io ho smesso non ho più non seguo più nessun gruppo di nessun tipo perché non mi interessa confrontare quello che devo dire con gli altri ma non è vero Dario non c'entra niente con facebook facebook è una roba totalmente diversa per fortuna perché hanno due tipi di approcci diversi cioè instagram rimane un punto in cui pubblicare media lo puoi usare per cioè nessuno si mette a fare un post instagram per dire buongiorno sì però non funziona ovviamente a meno che tu non segui queste robe e poi ovviamente l'algoritmo inizia a proportele e peccato che se fai i post identici su facebook e installi altri algoritmi ti pisciano meta funziona recentemente ma se non sai cosa fai da sempre e comunque instagram a me piaccicchia perché comunque lo trovo carino più che altro dove l'hai scritta una cosa contro one piece Dario su instagram o in un commento perché è ovvio che se tu nella pagina in una pagina di one piece scrivi one piece merda sotto una foto di one piece la gente ti insulta ma è normale se frequenti un certo tipo di gruppi ma è sempre quello il punto eh raga il punto è sempre quello non dovete sentire il bisogno di scrivere alla gente è questo cioè in realtà io seguivo i gruppi di shy dove si parlava di politica di a un certo punto ho smesso perché perché tanto sei solo lì ad affermare le tue idee contro i mulini a vento e di incazzarti ma che cazzo serve non serve a niente cioè per di solo tempo limiti le tue energie non c'è una buona motivazione per farlo cioè puoi fare tante cose migliori tipo apri un canale youtube che lo sia andata così comunque guardiamo dei pacchi pacchi ufficio pacchi io per alcuni fumetti che seguo per informare mi sono dovuto arrivare a leggere i forum ma che tu leggi cose strane Fufu se leggessi fumetti belli quelli no comunque ribadisco forcia i forum e queste robe qua avevano senso quando la gente era meno litigiosa e quando non passavi il tuo tempo poi a litigare sulle robe fumetti francesi sono meglio di tutti i manga che pubblica star comics vero e jpop e planet e toshukan e magic press e goen e coconino e ne ho dimenticata qualcuna flashbook e rizzoli lizard icari giusto mi ho dimenticato icari e oh vogliamo il recuperone di tex diabolic 001 edizione 001 edizione non è toshukan no erano diversi ancora ho perso il filo io non mi ricordo più ishin ishi ishi giusto icari 001 vero era jpop e basta però non scappi più un cazzo no jpop è bd icari 001 toshukan che cacchio era mi ricordo più no non giunti non mi ricordo è che gran parte delle case manga nascono per il solito motivo che non puoi sporcare il manga con il fumetto normale if edizione a solito che un po' giunti editori ok ricordatevi mai sporcare un bellissimo manga con il fumetto delle altre nazioni teniamo sempre separati mai incrociare i flussi che poi poi gli altri fumetti ci puoi mettere tutto quello che vuoi comics italiano francese indo-giamaicano quello che vuoi l'importante è distinguere bene manga e fumetti soprattutto nelle librerie Tony Stark ha fatto anche cose buone benvenuto how i met your weed come stai bene spero brode brodeck bonjour je suis brodeck boh sapete che ho poco questo odio per la ottimo octosus no in realtà no calvino è sempre edizione bd solo che non esce più niente è giusto il topolino con le cartoline marvel in teoria un incal credo sia un buon inizio beh si un incal è sempre un buon inizio ciao ti ho appena scoperto da youtube ero alla ricerca di un bel video che mi spiegasse un po' come iniziare a leggere fumetti marvel benvenuto allora e comunque apriamo qualcosa apriamo qualcosa ditemi un numero 3 1 2 3 aprirò questo pacco che vedo in ottime condizioni secondo me i fumetti all'interno sono in condizioni ideali 54 matt pensavo peggio il primo fumetto è questo grazie jpop jpop star grazie perché avevo bisogno di questa scritta comprandolo da amazon poi ero proprio la necessità però posso vedere se si toglie facile è una cosa importantissima nuovo prezzo 790 metti a fuoco però grazie non è a fuoco non mi sembra tanto a fuoco però no usa il phone vediamo se si no no si stacca si stacca sembrerebbe no no viene via molto facilmente in effetti ah perché è strano non non è è una colla strana cioè vedete non attacca vedete è strano è tipo belli belli mi piace però la mia fumetteria mi ha detto tipo di metterli così hai visto il palio di siena no avevo una domanda dei fumetti spillati posso trovarli anche in edicola in teoria alcuni si ma probabilmente non li trovi però in teoria alcuni si però probabilmente non li trovi è tipo Franco Bollo un tizio l'ha leccato è probabile ma il problema non è se ci sono no Jason il problema è che comunque non li trovi perché la maggior parte delle fumetterie non gli arrivano punto comunque il secondo numero di Dragon Ball Full Color la saga di Freezer sapete che è un po' più morbido questo rispetto a quelli che avevo io forse perché è ristampato può essere mi viene questo dubbio e mi sembra più morbido dell'ultimo che ho letto però anche quella era una ristampa in realtà mi sa boh vabbè comunque sono molto contento di averlo preso fin dove arriva oh è arrivato Goku ok spoiler non molto spoiler però no non è Gohan è Vegeta aaaah leggiamo Dragon Ball in live a colori ma che bello poi è bollino a colori bisogna dire che ha il suo perché è tornata disponibile non lo so l'ho comprata c'era l'ho preso meglio Master oppure io sono domanda misa no non è una gran domanda è io sono sono dei polpettoni con dentro le storie più teoricamente rappresentative del personaggio ma non è vero i must have sono storie singole non ti consiglio di comprare gli io sono a meno che tu non abbia idea di quello che stai comprando e che non voglia avere una sorta di mini enciclopedia del personaggio in casa generalmente non sono le storione importanti ecco bravissimo grazie io sono più che altro degli indici dei personaggi però sì sì no non è vero non ti danno degli indici non ti danno guide semplicemente dai spesso dato che i personaggi hanno 60 anni ti fanno vedere un po' di storie però io non ne ho nemmeno uno di quelli marvel in realtà però ho solo quelli di sì comunque non ho preso solo questo perché ho preso anche il secondo numero della saga dei cyborg 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 qui non c'è il prezzo nuovo ah no questo è ristampato questo è già 7,90 è già stampato così vecchio prezzo nuovo prezzo quindi li stampano vedete sì eh non c'è nemmeno uno di quelli marvel in realtà oh 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 eh ma sono veramente belli infatti adesso non li compro tutti di seguito però adesso ne ho approfittato perché questa settimana non esce niente quindi mi sono fatto un recuperino però piano piano vorrei comprarli perché sono proprio bellini e poi avere il mio dragon ball ho solo l'edizione la prima edizione quella blu quindi avere questa qua è carino poi in realtà a me piacerebbe comprare quella figa devo essere sincero però una prima delle volumi la prima volta che ho visto un tuo video su youtube pensavo fossi Gianluca Iacono no però Gianluca Iacono è stato ospite di questo canale ricco siamo andati a fare una live insieme in fumetteria potere pelato ma non ho finito perché abbiamo anche qua il quinto numero del giovane Goku questo invece c'è il nuovo prezzo non hai mai letto Dragon Ball te o veramente minchia questo non so dove arriva in realtà ah ok arriva qua ok giovane del Goku arriva fino credo fino non lo so in realtà dove si allora credo che arriva fino a piccolo cioè fino al al piccolo padre per cui è tutta questa parte qua c'è anche Arale nel villaggio Pinguino c'è lo scontro con Tao Bye Bye e immagino ci sia il torneo no il torneo forse è in quello dopo non lo so in realtà si arriva fino al torneo Tenkaichi 2 cioè il secondo forse no hai comprato questo? grande allora io mi ricordo però che se voi siete anziani e guardavate Dragon Ball su Junior TV prima che arrivasse su Mediaset e si fermava sempre a questo punto qua in cui lui andavano questa avventura sotterranea e c'era questo strano robot mezzo alien con la testa lunga e si fermava qua Dragon Ball in Italia su Junior TV esatto che palle non arrivavamo qua si fermava tipo qua con il robottone e lì boh no I met you're with devi assolutamente cominciare dal personaggio che ti piace di meno quello che ti fa più cagare ti consiglierei anche di scegliere il personaggio che ti piace di meno e di iniziare dalle storie degli anni 60 quelle più pallose che trovi anzi fatti consigliare da qualcuno le storie più brutte che gli vengono in mente poi inizi da quelle nel caso tu riuscissi ad andare avanti allora sei pronto a leggere qualsiasi cosa parti da Major no Major X a suo modo è un cult cioè Major X ti possa divertire è talmente una merda che ti fa tutto il giro che bello che bello Dragon Ball mi raccomando comprate i vostri manga su Manga Bo il sito di manga più bello che c'ho boh non lo so e legge assolutamente Savage Avengers no non date consigli che poi ci crede poverino magari magari non sta trollando magari è serio comunque sono contento di avere questi Dragon Ball full color in realtà ce ne sono ci sono altri no c'è Giovanni di Goku poi c'è il grande mago piccolo VG c'è Cyborg SL Freezer e Bu credo Allora Oh I Met Your Wizz il concetto è sempre quello cercati un personaggio che ti piace e inizi a leggerlo da una storia che inizi dal numero uno per cui o un volume o un serie di spillato dal numero uno sono due numeri no ma sono due saghe diverse PicPak sono perché il color l'hanno diviso in saghe questo è il due della saga di Freezer e questo è il due della saga dei Cyborg l'uno ce li ho entrambi già e questo è il cinque del giovane Goku vanno un po' messi sotto pressione sono un po' spettuti i Saiyan ah è vero c'è anche quella dei Saiyan è vero che è separata da quella di Freezer è vero è vero no vabbè solo perché la color l'hanno fatta così probabilmente anche in Giappone l'hanno fatta così o forse in Giappone nemmeno esiste non lo so se esiste fisica in Giappone certo che si facevano questa qua in formato in formato Kanzeban con questa ora coperta saremmo di tutti più contenti però è detto strano ci sta guarda tra l'altro esce un volume uno nuovo a settembre ottobre riparti da uno coi cartonati ti compri quelli se ci tieni e boh comunque abbandoniamo questo bellissimo coso di cartone lo lancio lì e allora ora mi dedicherò al sacchetto dei manga vi piace il sacchetto dei manga di J-pop e il primo manga di oggi è questo Kalia un manga super interessante molto bello ho dovuto Kalia non c'era nella fumetteria normale cioè nella fumetteria nell'edicola normale sono andato all'edicola normale ho preso altre due e poi Kalia sono andato in un'altra edicola ancora che fortunatamente era aperta e questo numero di Kalia è il decimo continua Kalia sì l'undici almeno esce io ho paura che prima o poi me la interrompo normalmente mi sta piacendo e disegni di questo numero di Alessio Zanon layout di Lamberti come sempre a parte che non ci sono gli sfondi però il design non mi dispiace non ci sono gli sfondi quasi mai però nasi strani però non mi dispiace in realtà molto semplice ma piacevole forse io continuo a dirlo il problema di Kalia secondo me è che per il tipo di racconto essendo comunque una serie non episodica cioè fondamentalmente ha una macro trama un po' pesa nel senso che effettivamente si nota la differenza dei disegnatori perché la serie è continua la sfufu io non mollo un fumetto perché aumenta di prezzo di 50 centesimi sinceramente cioè nell'attuale congiunzione finanziaria un fumetto italiano se mi piace non lo mollo perché aumenta di 50 centesimi a meno che non mi faccia cagare certo se mi fa cagare sì però boh non perché aumenta di 50 centesimi ma non mi interessa Samuel Stern Norman e ribadisco come lo inizio Samuel Stern cioè e poi non è il mio genere già leggo Dylan Dog che non è il mio genere no ma non è questione di essere patriota Matt però un minimo se ami il fumetto se il fumetto ti piace ci provi poi fossero volumi da 20 euro e dici ok sono 20 euro al mese per dei cartonati da 15 sono passati a 20 dici ok però tra 4 ore 40 e 4 ore 90 non mi cambia la vita eh e letteralmente di Bugs compro solo questo per cui cioè poi per carità uno fa i suoi ovviamente uno fa le sue cose può dire oh io per me non li vale 4 ore 90 non lo compra però ti dico non è il motivo per cui mollo un fumetto in generale in generale credo di non aver mai mollato niente per gli aumenti se non gli spillati Marvel alcuni io prima degli aumenti del 2020 gli spillati Marvel a parte Deadpool li compravo tutti perché sì perché da fan Marvel li leggevo molto volentieri poi un po' li ho smessi in genere 18-20 o I'm at your weed però in questo periodo penso che per questo per agosto faccio 21 perché fa troppo caldo di giorno e l'aria condizionata funziona di merda e però comunque in genere è la sera però non lo so può essere che faccio anche live al mattino ogni tanto adesso non lo so vediamo e a me è successo ok poi oltre al nostro calia cos'altro ho preso graucio quinto ma ci sarà un graucio sesto secondo voi ce ne hanno ancora di storie e nei prossimi numeri che cosa c'è tra storie inedite Manzo Giordano Barbato Camagni Enna Dall'Agnol vedremo vedremo i vivi e gli altri perché è scritto dal numero 1 Dario secondo voi Dario Ganaccio è l'unico personaggio ispirato a una persona vera nel fumetto? Boh, che ne so Nel fumetto in generale, nel fumetto... Boh Non sono d'accordo che sia meglio l'anime sul gelato scaluto Se devo essere sincero Sicuramente l'anime è disegnato meglio Ma la storia dell'anime è un po' faragginosa, è un po' lenta e boh Ma in Dylan sì, penso che sia l'unico Marino, mi spieghi? Hanno detto che per un po' non lo pubblicheranno più, grazie Sì, esiste l'abbonamento a Spider-Man e forse ad Iron Man, se non l'hanno cambiato Per domande di questo tipo ti suggerirei di farlo sul sito Panini Non leggo Dylan, ma Graucio lo conosco per i film Graucio Marx, quello vero intendi? Beh, Dylan è comunque ispirato direttamente a cosa? Non mi ricordo come si chiama Rupert Everett? Era Rupert Everett? Non mi ricordo Come DAW questo fumetto Posso dire che disegnare così e essere proposti dopo Cavazzano? Ma c'era Iron Man una volta? Eh, non è previsto un continuo della serie di Graucio, ok Sì, ma anche queste sono inedite, cioè sono già edite, non sono inedite Era il serpentone? Eh? Non ho capito Norman Comunque no, ribadisco, cioè Disegnare in stile un po' cartoonish Ed essere dopo Cavazzano Ed essere dopo... Boh Di Dragon Ma hai passato mezz'ora, Norman Ma non lo so Cioè mi hai scritto questa cosa Ho messo giù quel fumetto 15 minuti fa Che cazzo ne so? Cosa stai guardando? La live... Ah, questo Non lo so Se è una cheat Potrebbe essere una cheat Non ho idea Boh Potrebbe essere una cheat In Dante non ricordo serpenti su cui c'erano città, però Non puoi dirlo Boh Dragon Ball Perché prima c'era Dragon Ball Dragon Ball Madonna Mi avete appena fatto venire Tipo Gli incubi del Vietnam Sul serpentone della serie animata di Dragon Ball Comunque Fatemi fare un mio discorso sui Cavaliere dello Zodiaco Allora, i Cavaliere dello Zodiaco Sicuramente tutti sono più abiselezionati alla versione anime Perché la versione anime ovviamente aveva il character design di Shingon Gwaraki Aveva La bizzarra Come possiamo dire? Il bizzarro adattamento italiano E boh Però aveva anche un bel po' di roba infilata a forza Tipo Morgana e i suoi strani Cavalieri del Mare Tutti i Cavalieri d'Argento a caso Roba che effettivamente si capivano molto meno che nel manga Il manga dal canto suo sicuramente graficamente Kurumada non esce in Gwaraki Però soprattutto andando avanti Secondo me è di ottimo livello come lettura proprio Molto anni 80 perché ovviamente è pre-Dragon Ball O contemporaneo più o meno Però C'è pre-Dragon Ball Z comunque Che è il Dragon Ball Battle Shonen Per eccellenza Quindi Non è quella roba lì Però Per me il manga vale molto la pena di essere eletto Se superi ovviamente l'impatto iniziale I primi numeri C'era Kurumada che doveva prenderci un po' la mano sinceramente Però se guardate la parte di Ade La parte di Ade secondo me è proprio figa Senza contare che la parte di Ade nell'anime Non c'era Poi l'han fatta Però quando è arrivato qua da noi in Italia Oh a me il Cavalier Zodiac è un ottimo manga Anzi ora mi alzo e lo prendo L'ho aperto e ha fatto Croc Ma facciamo finta di niente Sta tipo togliendo la copertina Ottimo Credo che siano i manga peggio fatti Questi qua Di periodo Importanti Devo comprare la nuova edizione Così posso sfogliarla A parte questo Qua è fico Però ovviamente Il modo in cui disinvenivano Fatti di sconti In questo periodo qua Non è quello moderno A cui siamo abituati oggi Ecco Però è fico Eh ma non è così tanto Di una volta E questo è il problema Dario E che è proprio L'edizione che fa un po' cacare Perché non so Star Che cazzo c'aveva Cioè il 2009 comunque Questa roba qua Non è uscita nel 2000 Non è uscita nel 95 Cioè i manga che si aprono così Solo questi Cioè va Oddio Basterebbe metterci un po' di colla Per carità Alla fine si è solo scollata Questa parte così Però minchia Che qua di colla Non ce n'è Tra l'altro No che poi in realtà Non è che si rompa È solo Si è solo scollato la copertina Ma perché non è attaccata Cioè la copertina Non era attaccata Era attaccata solo di bar Cioè era attaccata solo di lato È strana questa cosa Cioè Cioè i brossurati in genere Sono attaccati qua E qui era attaccata solo di lato Che stranezza Cioè fondamentalmente È attaccata così Infatti si stacca Perché è attaccata soltanto La parte esterna della copertina O forse era attaccata Ma si è scollata completamente Ma non sembra scollata Cioè Non c'è proprio traccia Di colla Sulla carta Infatti si sta staccando Completamente la copertina Dovresti rincollarlo Cioè basta metterci Della colla qua e qua Letteralmente Boh Vabbè Comunque Che bello Come sono Iea Nelle loro armature Un po' Deformi Dovrei Vinavillargli La costina Però vabbè Non ho voglia di farlo adesso Comunque Grandi cavaliere dello zodiaco Miglior manga di sempre E Comunque Tra l'altro ho ancora Quelli di Granata Press Da qualche parte Completa Dovrei recuperare anch'io La parte Nuova Secondo me Non so cosa sia la colla Senz'acqua Non so cosa sia la colla Non so cosa sia il Vinaville Boh Comunque molto belli i disegni Del nostro graucione Ora Proseguendo ancora Come potete immaginare Il terzo manga di oggi È Dragonero Mondo Oscuro Un manga bellissimo Un battle shonen Un po' sane Con tutto quello che volete volere Da un battle shonen Un po' sane Dei cavalli disegnati male Degli orchi gigantelli In realtà Solo questo è disegnato male Poi qua è bello Cavalieri Demoni Castelli Castelli La nave di Freezer Non capisco Sono fantasmi o sono dipinti? Sono dipinti Devo essere sincero Demoni Bello Nel prossimo numero Lo spirito di Aura È confinato All'interno di un feticcio E la magia Si è da tempo nascosta A disorda di pace Quale sarà la sua reazione Al grido di aiuto Lanciato da Dragonero? Giusto È fatto bene È uscito Su Bonelli Animal Eh Sì la copertina È molto figa Vabbè Perché abbiamo Dragonero Speciale Non mi ha fatto impazzire Il Dragonero Speciale Di questa Di quest'anno Sono fantasmi dipinti Ok Comunque basta Comprare manga Bisogna comprare Gli omnibus Che si mantengono Meglio nel tempo E niente Abbiamo finito Anche i mangi Di questa sera Quindi abbandoniamo I mangi E passiamo A cose più belle Benvenuto Nel mondo del fumetto I met you with Non lo so Cos'è Ma potrei anche Capirlo così In realtà No non è vero Non posso Cioè era un po' Aperto Ma appena ho fatto così Si è richiuso Perfettamente Potevo comprare Quello appena uscito Per panini Ma ho detto No Mi si è rotta la live No funziona Ho detto No Ma non ce l'ho Topolino Dario Non ce l'ho Topolino Dove c'è Ti pare che sono andato In edicola Ma a parte che non credo Nemmeno ci sia in edicola Cioè già in edicola Ma ti pare che sono andato In edicola A prendere Topolino Ma perché mi hai preso Seriamente Un po' rovinato È sto coso Però fa niente Lo segnerò ad Amazon Dicendo L'ultimo che avevate Ed era un po' rovinato Oh no No costa meno Questa è la versione Questa è l'absolut A differenza di quello panini Che è la versione comic book Per cui i disegni sono molto più grossi Ehm Vuoi mettere Adesso ti banno Però Cioè nel senso Non è formato comic book Questo Formato comic book È l'absolut Sì 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 È l'edizione italiana È l'edizione di Lion Costava 23,95 Costa più o meno uguale Però questa qua Ha meno pagine Perché non ci sono gli extra Di cui non me ne frega niente E le tavole sono giganti E visto che è castellini Ho detto Sapete che vi dico Preferisco averle giganti Che averle In formato standard È È È È È È Per cui ho preso questo E così c'è la versione gigantona Piccato sì uno di quegli Absolute non nuovissimi Per cui non costava pochissimo Perché se no secondo me costava ancora meno Probabilmente ai tempi era anche questo zello Oggi per un volume di questa dimensione Sono 96 pagine E allora paghesti un po' di più forse No più o meno in realtà Però quello panini sinceramente non me ne fregava veramente niente Cioè avere la versione più grossa con più roba Però piccola Cioè la versione con più pagine Uomo e Stava 24, 22, 80 Non so se c'era lo sconto su questo su Amazon Forse l'ho pagato anche un folino meno Però l'ha formato comic book con Gli extra Vabbè a me anche a colori va bene Poi adesso dovrebbe uscire il suo Silver Surfer Nuova versione Forse in bianco e nero Non lo so Perché io ce l'ho piccolo Il Silver Surfer suo vecchio Quella versione spillata Dovrebbe riuscire L'ho annunciato Però madonna Guarda che bel uomo pelato Oh bello Minimo 30 Non lo so però Bisognerebbe Che non ha moltissime pagine Ma fa tutti con la macella quadrata Lui Poi Abbiamo un altro fumetto Vabbè Questo lo aspettavo Finalmente l'hanno ristampato Ritenzione E almeno ce l'abbiamo tutti Facciamo Una foto di famiglia Mi è uscito l'11 No è la ristampa del Non lo so Non mi ricordo che numero è Perché aveva esaurito questo Da un po' Non so se c'è la lista Da qualche parte Tipo dentro Allora Guerra È il primo Credo È il quinto questo E io lì ho fino Allora Questa è guerra Che il mio non ha nemmeno La scritta in realtà Poi c'è fame Buio Giungla Poi c'è questo Che è redenzione Poi c'è vittima Vittime Assedio Tregua E non ho ancora preso Inferi Ghiaccio E agguato Sì comunque L'11 agguato Forse è già uscito Non lo so Guardo Vediamo Perché non scrive È morta la tastiera Spero di no Ma dimmi che non mi si è scaricata La tastiera Perché Non è bello Se mi si è scaricata La tastiera Sapete Perché non ho più batterie Che parlo Non ho ancora comprato le pile Da quel famoso volta Che abbiamo guardato Le pile su Amazon Cazzo Mi sa che è davvero scarica Che palle Devo usare questa No ma non va nemmeno questa Forse Ah no Questa va Si è scaricata la tastiera Adesso va Ho spento e riacceso Adesso va Vabbè Ho il mouse È solo la tastiera Che non va A parte che la live La posso spegnere da qua Ha fatto qualcosa Ha fatto di ding Non so cos'era Qualcosa che si è disconnesso Evidentemente Non so cosa Forse questo E No Non era quello Perché questo funziona Com'è che era l'ultimo Agguato Beh funziona bene Oh guarda L'ho trovato Questa è la variant La variant È già esaurita Madonna Vabbè è uscito il 23 giugno Comunque si È uscito da Due mesi Non è l'audio Ma meno male Eh sì Usè Un po' usè Sì No io lo sto Cioè sono un po' indietro Nel senso che Ai primi Otto con questo Me ne mancano tre Vabbè pian pian Però figo Bella la copertina La copertina mi piace molto Ma è diversa la copertina Non c'è Tutta la serie No È così Libri senza anima Se cerco libri senza anima Non viene fuori niente Senza libri Solo senza anima Ma no Questa è la nuova edizione Non disponibile Tra l'altro Sul sito panini Sul sito coso Ma quella vecchia Mi sa che non c'è Più Sto guardando eh Era diverso il colore Era azzurra O gialla E adesso è così Ogni edizione C'è Questa era la prima versione Normale Questa era la versione Variant E questa qua è la nuova Quindi era azzurra E questa qua è violettina Per distinguere La differenza Eh beh È fatto bene Pickpock Sì Le varie Non sono Monocromatiche E in realtà Dipende Alcune sono un po' Zoomate diverse Tipo Agguato Vedete È diverso Anche lo zoom Proprio E fanno zoom Zoom Oltretutto Scusatemi Non lo faccio apposta Sono così Mi incuriosiva In realtà La prima guerra Che dovrebbe essere questo Ma era A colori la cover Di questo L'originale L'originale Era così Sì Io non glielo so dire In inglese In tedesco Se qualcuno vuole dire Di qualcosa in tedesco Glielo dica I I don't speak Deutsch German German È una Merda guerra Perché alla costina Ha il colore blu E la ristampa È l'unico diverso Beh il mio è così La guerra è Quello che non ha La scritta Questo qua è nuovo O no Non c'è scritto niente Comunque Abbiamo un certo numero Di draghi neri Senz'anima Adesso Questo vorrebbe qua Eh sì Sono tutti neri Vabbè Poi potremmo parlare Dell'altezza Dei fumetti Ora Aspettate che Uso questi Per metterli in linea Bonelli Falli stampare Nello stesso Non lo so Dalla stessa persona Perché Cioè notate Sono in linea Cioè ci ho messo Il fumetto sotto Per avergli alla stessa altezza Cioè Assedio è Un'attacca sotto Tra l'altro La cosa divertente È che tipo Vittima è il più alto Di tutti E Assedio è il più basso Di tutti E quindi Yeah È anche un po' rovinato Tra l'altro No No Jason Proprio no È peggio Dei Marvel Collection I miei Marvel Collection Non hanno questa Non sono a questo livello Cioè Cazzo qua È quasi mezzo centimetro Non è poco Cioè Fra questi due È imbarazzante La differenza Nel senso Non dovrebbero accettarlo Che glielo Passino così Voglio dire Un minimo Ok Cioè Il discorso è È vero che la stamperia Ha i suoi limiti Di Però Non così tanto Non dovrebbe accadere Così tanto Non so se c'è scritto Dove è che l'hanno stampato Mi sa che non c'è scritta Grafiche stella Mi sa che non sa per l'ora Mi sa che avevano già guardato Tra l'altro Ma non sempre loro Grafiche stella Di San Pietro Di Legnago Però Minchia Cioè Come fai a farli Così diversi Questa qua è la differenza Sempre loro Grafiche stella Grafiche stella Grafiche stella Un minimo Cioè Lavorateci un po' meglio Sull'altezza dei cartonati Perché Madonna Poi non immagino Che non hanno nemmeno Una tiratura Così enorme Questi qua Cioè non è che sia Settemila Milione di copie No Boh Rimetto via Questa roba Comunque dai In questo momento Mi mancano Tre Senz'anima E due Dragonero Gli eroi Poi siamo a In palco Guardiamo Dragonero Gli eroi Un po' Calia Questo Dragonero Gli eroi Calia Ma stampato bene Il bianco e nero Stampato su carta Decente Comunque Ha il suo fascino Devo dire Cioè immaginatevi Queste robe qua Stampate sulla carta Del bonelli normale Viene sempre uno schifo Quando le stampano Su queste carte così Invece Fa tutto un altro effetto Ma Alla fine Sono comunque 96 pagine No Non è vero Sono 64 pagine Di fumetto Per l'amore Non si fa questo e altro Sto andando uguali Sì Più o meno S E così Si fa per affetto Comunque Abbiamo finito Abbiamo finito Anche con questi Evviva E niente Se non avete domande Specifiche Io staccherei anche Che c'ho caldo E sto soffrendo E Boh Vi faccio magari Un raidino Qualcuno Non so Non so Non so chi farlo Penso a nessuno Questa sera Penso che stasera Stacco senza fare raid Non c'ho voglia Ho preso uno moschino E c'è lui Ha detto che non voglio Quindi Se non avete altre domande Io vi saluto qua Noi ci vediamo Nel futuro In una nuova fantastica live E con questo è tutto Ciao Ciao